Allora io chiedo subito a Maria Limardo, sindaca di Vibo Valenza, che so che è anche una questione logistica da affrontare. Ottobre, tempo di manovra, tempo di manovra in una condizione di finanza pubblica che è quella che conosciamo, dal punto di vista del suo comune, dal punto di vista della sua esperienza, che cosa teme e che cosa si aspetta per la gestione dei prossimi anni alla luce delle anticipazioni che abbiamo visto in questi giorni, in queste ore. Grazie intanto. Cosa temo e che cosa spero? Il mio comune è uno dei dodici comuni che ha firmato il patto per la città con la Presidenza del Consiglio e in questo patto noi abbiamo inserito alcune misure che pesano anche nei cittadini, come per esempio l'aumento dell'addizionale IRPEF, pur tenendo separate alcune fasce deboli, in un momento di assoluta sinergia tra il Governo locale del Paese e quello nazionale. Quello che mi auguro è che possa essere confermata la misura dell'articolo 81 che prevede per i comuni che hanno firmato il patto un sostegno economico per il superamento di una condizione di crisi che certo dipende dal comune ma che dipende anche da una generale situazione. Quello che temo è che possano essere confermate le riduzioni di alcune risorse che possano andare a valere sulla spesa corrente perché non c'è dubbio che c'è una profonda dicotomia tra gli importi del PNRR che spingono il territorio verso un ammodernamento e verso una proiezione e un avanzamento a livello europeo delle nostre città e dall'altro spese correnti che non ci consentono poi di manutenere o comunque di fare fronte ad un livello di servizi che deve essere all'altezza di città che noi governiamo e che vogliono essere alla pari. Quindi questi sono i due estremi tra timori e speranze. Comunque la mia città sta andando avanti, si pone in una logica di superamento della crisi finanziaria perché siamo riusciti a isolare completamente la parte del deficit con questa misura, appunto l'aumento dell'addizionale IRPEF che vale poi a riconsegnare alla città un bilancio completamente risanato. Sì, qui i termini del patto sono abbastanza chiari, diciamo così. Da un lato si chiede molto spesso un sacrificio ulteriore in termini fiscali ai cittadini, dall'altro però si riporta, diciamo, il bilancio del comune dentro a un binario che dovrebbe avere prospettive più solide e più concrete rispetto a quelle che qui a Napoli poi, come dire, c'è stata un'esperienza, la prima esperienza anche in termini, diciamo così, finanziari. Il patto che dovrebbe essere, almeno stando alle bozze che abbiamo visto in queste ore, e poi finanziato anche dall'anno prossimo, anche per i comuni medi, come era capitato alle grandi città.